Ciao, è arrivato il fatidico giorno. Da ieri, tardo pomeriggio, probabilmente dopo che avevano rifatto i conteggi delle elezioni, si erano assicurati che avessimo perso, mi è arrivata la destituzione. Quindi sono stata licenziata al quinto procedimento disciplinare, su sette, sono stata licenziata perché? Per quello che ho detto sul palco e per la recidiva, cioè per aver continuato a esprimere le mie idee. Quindi il primo caso di licenziamento della storia, credo che sia, per aver esercitato l'articolo 21 della Costituzione. Questa è la democrazia, così, mi viene da dire del vostro paese, perché sinceramente faccio fatica a sentirmi italiana, ancora italiana. Mi sento molto apolide, proprio così. Non mi riconosco in questo stato, non mi riconosco in nulla di quello che vedo intorno a me, anche perché non voglio fare commenti, vi dico fatti. Vi ricordate il G8 di Genova? Bene, i poliziotti del G8 di Genova sono stati condannati con sentenza passata in giudicato. La Cassazione, in quella sentenza, scrisse che i poliziotti, quei poliziotti, lesero l'immagine dell'Italia nel mondo. Bene, quei poliziotti sono tutti in servizio e alcuni sono stati anche promossi, insomma, hanno anche incarichi importanti. E io, che non ho violato alcuna norma, perché benché loro continuino a dire che io sono andata contro i doveri del poliziotto, ma perdonatemi, quindi un dirigente di polizia è uno schiavo. Cioè, io non avevo il diritto di partecipare a una manifestazione, non avevo il diritto di salire su un palco e dire come la penso. Quindi non mi venite a dire, ah, ma perché hanno detto che tu eri un dirigente di polizia? Lo sapevano già tutti, lo sapevano già tutti perché l'amministrazione mi aveva mandato in giro per domenica in tutte le varie trasmissioni televisive. Lo sapevano tutti perché avevo risolto i casi che più avevano avuto eccomediatico, dallo stupro della minorenne a Piazzale Clodio, a quella della tassista, al violentatore seriale e tanti altri, il sequestro di persona di un bambino, insomma, veramente tanti. Avevo vinto per questo dei premi, sono stata chiamata a far parte del Pontificio Consiglio della Cultura, della consulta femminile, di cui non faccio più parte, così chiariamo anche questo. E adesso sono proprio curiosa di vedere che cosa diranno tutti i miei detrattori, che erano convinti che io fossi una del sistema, adesso che sapranno che sono stata licenziata. Voglio anche vedere chi è che domani riporterà questa notizia. Sinceramente io non mi aspetto più niente, quindi io penso nessuno.